ciao e buongiorno a tutti sono sabrina bonazza responsabile della linea skin care delle terme di comano e oggi insieme a voi volevo raccontarvi un po' di un attivo dellezione dell'attivo dellezione che è dermatologico per eccellenza proprio che abbiamo introdotto in tutti i prodotti della linea cosmetica e cioè della nostra acqua termale la nostra acqua termale che ha delle caratteristiche ben specifiche come voi ben sapete in quanto sgolgano una temperatura di 27 gradi centigradi in più ha anche una particolarità una composizione caratteristica chimico fisica che la rende l'attivo dellezione per ridurre arrossamenti irritazioni e patologie arrossamenti dovute a patologie quali dermatite atopiche psoriasi ma a tutti coloro che si chiederanno perché devo utilizzare e quando devo utilizzare un'acqua termale spray ecco che oggi abbiamo modo di vedere assieme un pratico e semplice utilizzo anzi dei pratici e semplici semplici utilizzi dell'acqua termale stessa in primis noi dobbiamo garantire che cosa garantire la sicurezza dell'acqua termale ecco perché noi l'abbiamo introdotta in questa pratica bomboletta spray ovviamente l'acqua è contenuta nella bomboletta ma non a contatto con la bombola anzi all'interno di un sacchetto c'è presente l'acqua quindi separata dall'aggressione degli agenti esterni quindi in primis non viene a contatto con l'aria secondo luogo non usiamo gas propellenti ma utilizziamo dell'aria compressa di conseguenza anche l'ambiente è più che salvo terzo l'acqua termale è pura al 100 per cento senza preservanti e senza coloranti quindi priva di tutte quelle sostanze che possono causare allergia e la imbottigliamo direttamente alla fonte perché allo stabilimento termale c'è ovviamente il nostro sistema di riempimento quindi un attivo pure a chilometro puro a chilometro zero senza senza appunto sostanze dannose all'interno che caratteristiche vediamo come riuscire ad utilizzare questa acqua termale l'acqua termale spray è un ottimo in primis un ottimo complemento diciamo completamento alle cure che noi diamo al stabilimento termale vale a dire un nostro paziente che viene nell'età medicomano per trattare le matite atopiche e psoriasi per continuare o meglio per continuare a trarre un beneficio da quest'acqua termale e portarsela a casa può utilizzare questa pratica bomboletta in secondo luogo è adatta a tutti quindi a tutti coloro che hanno irritazioni a tutti coloro che hanno allergia a tutti coloro che si ossionano stocotano con il sole che piccole scottature domestiche sprayzata anche più volte al giorno riesce a ridurre le irritazioni ma è ottima anche dopo la detersione dopo la detersione con qualsiasi attivo detergente vale a dire latte detergente piuttosto che un gel detergente spruzzata riesce a riequilibrare il pH e a dare quell'idratazione necessaria per favorire la veicolazione delle sostanze che si mettono con i cosmetici successivi quindi utilizzatela sempre e comunque come ottimo tonico dopo la detersione come si sprayzza sul viso si lascia agire e si picchietta per favorire l'assorbimento un altro consiglio pratico che noi diamo soprattutto per chi soffre di dermatite atopiche di psoriasi di sprayzzarla nebulizzarla sulle zone affette lasciarla asciugare con ancora la pelle inumidita mettere la crema specifica per dermatite atopiche psoriasi questo è un consiglio che danno anche i nostri dermatologi quindi è semplicemente soprattutto per questo momento un po particolare che siamo ridotti in cui siamo ridotti a stare a casa per aiutare l'idratazione per evitare che la pelle si dissecchi per evitare anche quella dissecazione che abbiamo sulle mani dovute appunto al gel disinfettanti utilizziamola tutti i giorni più volte al giorno ecco che questi pratici consigli ah una cosa dimenticavo anche per gli uomini dopo rasatura per mitigare proprio l'arrossamento stesso ecco che con dei pratici ottimi buoni consigli noi riusciamo a mantenere quell'idratazione di cui abbiamo bisogno anche in questo particolare momento quindi utilizzate la nostra acqua spray tutti i giorni più volte al giorno e per maggiori informazioni domande consigli commentate pure questo video o inviateci pure un messaggio e se vi va di vedere di visitare anche i nostri altri prodotti della linea cosmetica skin care visitate proprio il nostro sito e shop shop.termicomano.it ciao alla prossima